RECETTE GLAM La sfida di cucina Qui pare che arriveranno ospiti inattesi Una sorpresa appiccicosa E guardate la zampa di Selena Accadrà qualcosa di strepitoso a tutti noi Sono sicura che vinceremo la gemma Dovresti essere più precisa Ospiti? Hai visto, Selena? Mystery aveva ragione È solo fortuna Vi presento il mio gel per decorare le acconciature E si possono creare anche degli accessori personalizzati Sarete adorabili! Ma non abbiamo ancora finito di testarlo, zio Non sappiamo se... È quella la sorpresa appiccicosa Chi sarà? Ehi! Meta TV! Pronte per una sfida deliziosa? Ci vediamo nel luogo indicato Andiamo a vincere questa gemma! Fermi! Aspettate! Non vi ho ancora mostrato come funziona il mio gel! Benvenute! Probabilmente vi starete chiedendo a che servono i fornelli Ebbene, quella di oggi sarà una sfida di cucina Ogni singolo gruppo dovrà preparare il piatto tradizionale di Cat Town e Glam City E per rendere il tutto più interessante I gatti faranno quello di Glam City E i cani invece quello di Cat Town Che cosa? Oh no! C'è un'ultima cosa Anche la presentazione è importante I nostri follower devono innamorarsene E il piatto più buono vincerà la gemma ambrata Diamo inizio alla sfida! Che cosa prepareranno a Glam City? Quale sarà il piatto di Cat Town? Misteri, tu saprai che ingredienti servono? Formaggio piccante, cavolfiore, carne Siete sicure della vostra scelta? Sì, certo, Misteri, non sbaglia mai! Avanti! L'altra squadra è in vantaggio! Oh, dobbiamo fare qualcosa! Ma cosa? Ci sono! Cerchiamo delle foto di Cat Town Guardate, bastoncini di pesce in ogni post Bene, ora che conoscete il piatto Basta scoprire gli ingredienti e come cucinarlo Ragazze, ha un odore piuttosto forte Siete sicure di quello che fate? Beh, assaggialo e lo scopriremo! Oh, è piccante! Acqua, acqua! Credo di aver sbagliato qualcosa! Avevi detto che avremmo vinto! Ora cosa facciamo? Così perderemo! Devi trovare una soluzione e in fretta Altrimenti non vinceremo Lasciate fare a me La mia invenzione vi piacerà sicuramente È un gel fantastico! Si possono realizzare tutti gli accessori per capelli che volete Guardate! È veramente fantastico, certo! Quali saranno gli altri ingredienti? Dai post sappiamo che c'è il pesce Ma di quale tipo? E come lo cuciniamo? Avanti, usa il tuo intuito, Stella! Che facciamo? Hanno capito l'ingrediente principale! Che bravi! Concentrati, Stella! Il tempo scorre! Dobbiamo scoprire come si prepara il piatto O la gemma andrà alle altre! Relax! No, perderemo! Mi dispiace ma non so come aiutarvi! Non insistete! Non so rispondervi! Oh, poverina! È del tutto sopraffatta! È ingiusto che la trattino in questo modo! Ciao, Stella! Cosa ci fai qui? Torna indietro, hai una sfida da vincere! Ho assistito alla scena di prima e ti capisco! Anche da me pretendono risposte! Davvero? Non so come esservi d'aiuto! So solo cosa ci piace! Ehi, aspetta un minuto! Anch'io so cosa ci piace a Cap Town! Potremmo unire le forze e preparare i piatti! Tu che ne dici? Questo gel non fa per me! Concentrerò la mia creatività su acconciature e tagli! Potrebbe servirci per il tocco finale! Oh no, che confusione! Va bene! Abbiamo bisogno di farina, un uovo, pesce, patate e olio! Procuratemi la carne, i pomodori e infine la pasta! È ritornata quella di sempre! Che cosa ci devo fare con le patate? Fringerle! A proposito, ora scolate la pasta! Fermi! Manca il tocco finale! Ma che cosa fanno? Per caso si sono alleate? Bene, assaggiamo! Entrambi i piatti sono deliziosi e la presentazione è fantastica! Quindi la squadra vincitrice è... Tutte e due! Fantastico! Abbiamo vinto la Gemma! Che cosa pareggio! Ragazze, in realtà l'idea di collaborare per la riuscita dei piatti è dei misteri! Oh, ti ringrazio! Hai aiutato Stella nonostante appartenesse a un'altra squadra e fosse rivali Io lo definisco buon gusto! La Gemma Ambrata è tua! Misteri ha indovinato di nuovo! Farò quello che so fare meglio Un super look! Amber Style! Hai ragione! È proprio la tua specialità, zio! Lo so! Grazie, Fabia! I bastoncini di pesce sono deliziosi! Anche la tua pasta è glam! Beh, sembra proprio che vadano d'accordo! I love it best!